Da quando usiamo il GPS per la semina, la nostra produttività è aumentata di almeno 3 ettari al giorno per ogni macchina. Benvenuti nella regione di Courtrey, nel sud ovest delle Fiandre. Siamo in una zona molto vicina al confine franco-belga. La nostra attività principale è il noleggio di macchinari e attrezzature e come attività secondaria abbiamo un'impresa agricola. Quattro dei nostri trattori sono dotati di sistema GPS. Questo aumenta la produttività di alcuni ettari al giorno perché il lavoro procede molto velocemente quando le macchine possono lavorare insieme su uno stesso campo. Il sistema di guida automatica di Case IH è un sistema di assistenza alla guida basato su GPS. Il trattore viene manovrato sul campo in modo completamente automatico. Un'antenna GPS rileva più volte al secondo la posizione esatta della macchina. A questo si aggiunge la correzione del segnale RTK che permette di arrivare a una precisione di 2 cm. Il display XCN 2050 confronta la posizione rilevata della macchina con un tracciato prestabilito e usa questi dati per adattare la sterzata in modo che il trattore rimanga sempre perfettamente in traiettoria. L'operatore ha le mani alla testa completamente libere per dedicarsi ad altri compiti. Qui vediamo l'interfaccia utente. Possiamo creare molto facilmente le linee di divisione e memorizzare i lotti. Possiamo anche accedere facilmente a Internet. Possiamo cercare su Google le informazioni che servono di volta in volta. Ad esempio, possiamo richiamare le previsioni meteo o i prezzi di mercato oppure visualizzare su Google Maps i terreni da lavorare. Il sistema di guida automatica può anche essere utilizzato con trattori di generazione precedente o con macchine di altre marche. Per sfruttare al massimo il potenziale delle tecnologie, si possono utilizzare simultaneamente più sistemi. Ogni trattore può operare autonomamente sul campo e i terreni possono essere suddivisi per rendere la lavorazione più veloce. Questo è un grande vantaggio. L'investimento è stato sicuramente conveniente. Trovo che il sistema sia ottimo. Mi sono talmente abituato a usarlo che non riuscirei più a farne a meno. Senza GPS diventa tutto più difficile.